Però ma che cosa ho vinto Spalletto nella squadra di 90 punti? Fine. Ci siamo detti tutto. Ci siamo detti tutto. Buongiorno popoli di OneFootball e bentornati a un'altra puntata di Zona Mista. Abbiamo un'altra giornata di campionato alle spalle con una gara interessante insomma che tutti aspettavamo di cui parlare e siamo qua a parlarne con Andrea Agostinelli e il caporedattore Giovanni Armanini della redazione italiana di OneFootball. C'è l'Inter-Juventus, stavamo aspettandolo tutti. L'Inter si ferma e la Juventus invece riesce nello sgambetto. Cosa ci dice questa partita? Andrea cosa ci dice? Come da pronostico? Che secondo me abbiamo sbagliato in tanti sulla Juve nel senso che l'abbiamo data per scontata e l'abbiamo sottovalutata. Secondo me nel senso che a livello mentale la Juve non va mai sotto. È una cosa incredibile. Quando devono alzare il livello della loro prestazione lo fanno. Da minuto uno la Juve è scesa in campo per vincere la partita e nel finale quando poi la panchina più lunga di Sarri rispetto a quella di Conte gli ha permesso al tecnico biancoliero di trovare altre soluzioni e poi sono andati a vincerla. Gli ultimi 20 minuti l'hanno, non dico dominata, ma si vedeva che avevano più voglia di vincere rispetto all'Inter. Io su Twitter scherzando dicevo no ma la vincono 4-5 a 1. Scherzavo esagerando volutamente ma per dire sostanzialmente questo. A me devo dire è piaciuta molto anche l'Inter. La Juventus devo dire la verità mi sembra un cantiere aperto soprattutto sulla fase difensiva dove stanno imparando molto. Non mi è piaciuto per nulla dell'Ict. Secondo me è un primo tempo ampiamente insufficiente. L'errore sul rigore ma poi tante incertezze. Alla fine io ho visto anche un dato che è questo. Sui gol attesi che sono un dato che io spesso vado a vedere non c'è stata grandissima differenza. È vero che si tratta di un dato molto più indicativo in tante partite che non nella singola. Però denotano un Inter che ha saputo stare in campo che sicuramente è una panchina assolutamente inferiore. Quando è venuto a mancare Sensi abbiamo visto una partita che stava cambiando. Però rimane una partita molto aperta. Il mio ragionamento di inizio anno era l'Inter deve arrivare a fare i 90 punti. Perché tanto di partite con la Juventus l'Inter ne ha solo due. Perché tanto di partite con la Juventus ne avrà solamente due. Secondo me oggi l'Inter è una squadra da 80-85. Nel senso che probabilmente dobbiamo avere qualche risposta in più da alcuni giocatori anche da chi subentra. E quindi nel lungo periodo ancora la Juventus mi sembra abbia un distacco netto. L'Inter di oggi deve sperare che la Juve perda punti per poter essere da scudetto. E però credo che le prime partite abbiano detto che la Juve a questi punti se li doveva perdere li avrebbe persi all'inizio. E così non è stato. Comunque buonissima Inter. Sono rimasti dentro la partita. C'è anche poi quando hanno preso lo schiaffo del 2-1 hanno reagito subito. Quello è un segnale. È un segnale di una grande squadra. Assolutamente. Ultima nota. Bonucci. Perché l'anno scorso è stato preso tanto di mira. Anche io personalmente l'ho criticato. Adesso sta alzando il suo livello. Io avevo qualche dubbio con l'assenza di Chiellini. Come sarebbe adattata la difesa della Juve. E Bonucci sta giocando. Sta facendo il Chiellini. È lui che si stacca dietro per andare a prendere le palle vaganti. È lui che poi ci mette il piede in fase di impostazione. Sta giocando veramente veramente bene. La vera svolta secondo me a questo punto di qualità la Juventus la farà. Nel momento in cui Sarri arriverà a poter giocare senza Matuidi e che dire. So che sto dicendo un'eresia per i tifosi della Juventus. Però se tu vuoi fare il sarrismo. Se vuoi fare quel palleggio. Se vuoi fare quel tipo di gioco col giocatore che si butta dentro. Che fa il primo tocco orientato ed è pronto a concludere eccetera. Puoi tenerne uno dei due. Poi ti serve Ramsey. Ti serve magari il Bernardeschi interno. Che lui ha già detto di avere nella sua testa. E che probabilmente proverà. E che è un discorso anche allegriano di quando Allegri disse. Dobbiamo alzare il livello qualitativo. Ecco quando loro riusciranno a fare questo passaggio. Secondo me noi avremo la compiutezza del progetto Sarriano. Che intanto e questo mi piace sottolinearlo. Dimostra di essere un allenatore molto bravo e molto duttile. Perché fuori Costa gioca col trequartista. Ma tranquilli quando rientra Costa. Ritornerà a giocare a tre. Perché una delle cose belle che dimostrerà Sarri quest'anno. È di essere anche un allenatore tatticamente molto duttile. Cosa che in molti non gli riconoscevano. Ma che secondo me lui dimostrerà. Tra queste due litiganti. C'è una terza che non sta godendo particolarmente. Ovvero il Napoli. Un altro pareggio. Ci si aspettava un Napoli più brillante all'inizio. Magari per approfittare di una Juve un po'. Guarda per assurdo stanno faticando nel reparto in cui non dovrebbero faticare. Che è l'attacco. Ancelotti resta provando tutte le soluzioni. Però ci sono alcuni giocatori che secondo me non possono essere tolti. In questa fase sono Insigne e Mertens. Non possono essere tolti. Il problema è che Insigne ti crea un piccolo equivoco tattico. Non puoi giocare troppo col tridente. O comunque non lo puoi spostare da quella sua zona di campo. Sulla sinistra. A quel punto lì. Poi cosa succede? Lui è abituato a giocare in un modo. Ieri col Toro tante volte metteva questa pala sul secondo palo. Dove di solito arriva Caglion. Se Lusano o chi gioca sulla fascia non memorizza. Fa quella cosa. Esatto. Il problema è quello. Secondo me tutto sommato poteva anche rubarla la vittoria. È stata un po' di sfortuna col Genki in Champions League. Ha avuto una sfortuna epocale. Ha sbagliato tanti gol sottoporta. Però il Napoli ci arriva sempre. Ci arriva sempre. Ci arriva sempre. Manca un po' di cattiveria sottoporta. Di scenismo. Sì, mancano i gol. Il problema è che se tu non segniti nel partito in birico le altre squadre in un'occasione la creano sempre. Ti ricordi col Genki. Ha già sbagliato un gol a 10 minuti dalla fine. Una cosa del genere. Anche ieri fino alla fine il Toro, che fa solo quello, riparte in contropiede, ormai ha avuto delle palle per prendere, ripartire e mettere in crisi la difesa. Per cui, forse quello, appena troverà una chiave definitiva a quello che è la gerarchia d'attacco, forse Napoli smetterà di avere questi problemi. La cosa vera è che però, per vincere il campionato, torno sempre al mio, quello che ormai è il mio mantra, il mio ritornello. Servono i famosi 90 punti. Questo Napoli non è una squadra da 90 punti. Fine. Magari vincono la Champions League, perché hanno delle qualità che nella singola partita l'hanno dimostrato con il Liverpool, possono emergere, possono venire fuori. Magari vincono la Champions League, ma il campionato è un'altra cosa. Da Scudetto, lo Scudetto lo vinci non facendo, lo puoi vincere anche facendo un anno di Espluà, ma lo vinci soprattutto essendo costante là sopra. Il Napoli aveva bisogno di alzare il livello di tutti, di tutti i ruoli, di tutti i settori a quel livello. Non lo ha fatto. È un Napoli che fa ottime cose, che magari nella singola partita ne fa di grandi, magari le fa su 5, su 10, ma nel lungo alla fine paga. Sì, ma che abbia consolidato il livello che già aveva. Ha consolidato quel livello lì. L'anno scorso arriva Ancelotti, a Sarri veniva rimproverato di far giocare sempre gli stessi, e Sarri dimostra una cosa, che lui va al Trove e fa il turnover, alla Juve ma anche al Chelsea. Mentre al Napoli faceva giocare a 13-14, perché i 15-16-17 non erano all'altezza del 13-14. Ancelotti realizza i desiderata della società, ma i desiderata della società dimostrano, perché poi parla sempre il campo, che quei giocatori non facevano fare quegli stessi punti che facevano gli altri. Il livello del Napoli è questo, è una squadra perfetta per arrivare terza, visto questa Inter, ed è una squadra, certamente da zona Champions, non è una squadra da quel livello. Poi invece il campo europeo è un altro discorso, ma questo secondo me inquadra bene che cos'è il Napoli oggi. Ci devono anche correre forte, perché l'Atalanta non mi sembra che si fermi. E poi, esatto. Io avevo una buona prospettiva sull'Atalanta, non mi aspettavo che partissero così forte. Noi, come sapete, di solito giriamo il lunedì e usciamo il martedì, quindi non sappiamo cosa succederà nelle prossime ore, però ci sono tre panchine principalmente in bilico, quella di Eusebio Di Francesco da Sampdoria, quella di Marco Giampaolo al Milan, di cui già molto abbiamo parlato, e quella di Aurelio Andreazzoli al Genoa. Volevo fare molto brevemente un attimo un resoconto di questi tre allenatori, cosa che non sta, non ha funzionato per loro. In linea di principio, io ti dico che personalmente sono sempre, nel 90% dei casi sono contro gli esoneri, e quindi nel 95% dei casi sono contro gli esoneri della sesta giornata. Poi se si vanno a vedere le ragioni, è chiaro che si possono trovare delle ragioni, ma credo che allenatori come Giampaolo e come Andrea Zoli, ma perché no di Francesco, comunque meritino e necessitino di tempi per fare le loro cose. Poi sicuramente si può sbagliare, uno dei problemi secondo me maggiori del calcio italiano, inteso proprio a livello tecnico, tattico e di impostazione societaria, e che non permette a nessuno di imparare dei propri errori. All'errore si viene cacciati, si deve cambiare, e questo secondo me è un grosso limite. È un limite che paghiamo sempre nei progetti di lungo periodo. Però andando invece allo specifico, io personalmente a questo punto credo che, come dicevamo una settimana scorsa, Milan che cambia Giampaolo può andare su un solo nome, che è Spalletti, perché qualsiasi altro nome sarebbe molto difficile, da una parte è molto difficile da inserire, il nome straniero, esotico, che necessiterebbe di una tempistica forse che il Milan oggi non si può permettere, qualsiasi altro nome italiano darebbe il sentore del traghettatore o del piano di breve periodo, di corto respiro, che allora finirebbe per già smontare una stagione. Spalletti invece è uno che i risultati li fa, che li sa fare, attenzione, quando parlo di risultato intendo squadra proporzionata all'obiettivo, poi perché altrimenti partiamo nei commenti a dire oh ma che cosa ha vinto Spalletti, che non è evidentemente il discorso. È uno che sa prendere la squadra e la sa costruire, mettendo quello che forse è mancato a Gianfalo. Altro in brevi tempi, come ha dimostrato quando ha preso la Roma da Garzia. Esatto, lui sa mettere i tasselli al posto giusto, che è forse quello che è mancato a Gianpaolo, che credo oggi paghi questa cosa. Sa anche toccare i tasti giusti coi giocatori, che forse è la cosa che a Gianpaolo gli si può imputare. Ancora più magari dell'impianto tecnico e tattico che è mancato. Biale è sembrato in queste 6-7 giornate una squadra senza anima. Per quanto riguarda invece di Francesco e Andrea Zoli, Andrea Zoli è un ragionamento molto simile, ma onestamente se io vado a vedere anche i risultati del Genoa, la domanda è ma scusate ma cosa vi aspettavate? Andrea Zoli non lo capisco proprio perché sta mettendo in campo, forse è tolto con la Lazio, che ho visto che era un po' una formazione, non dico improvvisata ma molto lontana dall'11 torare di base, la squadra c'è. Se c'è una cosa che possiamo portarci via da Genoa a Milano è che una squadra aveva un'identità tattica ed era il Genoa. Sapevano sempre come giocare, sapevano come trovarsi. Poi ha fatto dei risultati inizialmente con la Roma. A rovinare i piani c'è che le tre non promosse sono partite meglio di quanto chi si sarebbe aspettato. Bravo, poi c'è quell'aspetto e quindi piano. L'hanno messo in crisi e a Gianciano c'è il discorso Sampdoria, il discorso è quello. C'è tutto un discorso societario che ha un po' subito, come dire, ha messo... Creato un ambiente un po' confuso. Sì, ha subito avvelenato il clima e quindi partiti male, le cose poi sono andate picchiata. Mi dispiace per Di Francesco perché comunque questa cosa peserà sul curriculum. Alla fine se tu trovi una cosa comune alle tre situazioni è che se tu sommi tutto quello che noi diciamo delle tre situazioni si manda via l'allenatore perché in Italia si fa così. È una cosa che non ci scrolleremo mai di dosso. Però io capisco che... Tu sei più critico su Gian Paolo però... No, no, ma in tutti i casi nel senso io capisco che esonerare l'allenatore alle volte è la soluzione più semplice. Secondo me invece nel caso di Gian Paolo e Di Francesco si rischia che tenendo l'allenatore veramente la stagione vada a rotoli subito. Questo è il momento in cui per assurdo anche se è passato poco puoi rimetterla in corsa la stagione. l'esempio del Milan è che adesso è a quattro punti nel quarto posto. Chi è secondo te l'uomo giusto per la St. Gloria? Pioli? In questo momento è un normalizzatore quindi può essere Pioli può essere... Se dicevano davvero Ragneri che era stuzzicato da questa cosa può essere un'idea. In questo momento bisogna di dire ok ragazzi sappiamo fare due o tre cose facciamo queste. Ci siamo detti tutto. Ci siamo detti tutto. Vi ringraziamo per essere stati con noi anche questa settimana. L'appuntamento come al solito è martedì prossimo con i ragazzi della redazione italiana di OneFootball con Zona Mista e vi auguriamo una buona giornata. Ciao! Ciao! Avederci!